con il mister allegretti al termine della vittoria della clivenza e col caravaggio oggi bisognava vincere e abbiamo vinto sì la cosa più importante risultato la prestazione non è stata bellissima si faceva fatica a giocare a calcio ma lo sappiamo da sempre qui e sono arrivati questi tre punti perché ci servivano dopo una partita come quella di giovedì prima di pasqua che sicuramente era andata male quindi ci siamo subito riscattati e siamo molto contenti poi ci fecerà vederti più sereno giustamente la prestazione però un primo tempo dove i tuoi avrebbero meritato anche di più quindi alla fine si si è giocato poco per anche il terreno però le occasioni tu le hanno avute si all'inizio soprattutto si poi c'è stato una fase del già del primo tempo dove siamo andati un po in sofferenza anche anche fisica perché comunque come avevo detto alla vigilia ci portiamo avanti parecchi problemini da parte di tanti giocatori che purtroppo per via dei dei campi di allenamento che sono ancora peggio di questo fanno fatica ad allenarsi con continuità ma ma va bene c'è stato lo spirito giusto che ha portato alla vittoria e quindi è la cosa più importante grazie alla vittoria della tua prevenza e anche agli altri risultati ti porti a più 8 sulla zona dei play out sì quello è la cosa l'obiettivo la cosa più importante ora mi auguro che ci sia la serenità in più per affrontare le gare anche con meno sofferenza dal punto di vista mentale con meno paura anche perché andiamo a giocarci a piacenza con la squadra più forte del campionato quindi il risultato è già scritto da parte di tutti quindi ci deve essere anche la voglia da parte nostra di stupire come abbiamo fatto a ci piacerebbe continuare su questo trend adesso l'importante recuperare perché probabilmente perderemo col ferai e e brandini saranno da valutare settimana e quindi la cosa più importante adesso è recuperare le forze festeggiare oggi i ragazzi si sono meritati un giorno in più ci ritroveremo mercoledì e quindi ci prepareremo al meglio per la sfida di piacenza grazie